Nino, Paolo e Francesco non sono i loro nomi veri, ma che importa nel teatro realtà e fantasia si mischiano per rendere un po' più belle storie che a volte non lo sono. Il palcoscenico è quello del Fornelli, l'istituto per minori di Bari. Gli attori sono tre dei sei ragazzi detenuti che hanno seguito il laboratorio teatrale di Lello Tedeschi, organizzato da 16 anni ormai con il Kismet. Quest'anno sono partito dai loro vissuti, ma come sempre faccio, amo fare, non per mettere in scena i loro vissuti, che ritengo poco interessante per certi versi, ma usare come pretesto il proprio vissuto perché poi possa diventare materia di emozione teatrale per chi viene a vedere questi giovani, che per me, per noi, per il lavoro che facciamo, si sono detenuti, ma sono soprattutto in questo caso degli attori. Sono bravi Nino, Paolo e Francesco, bravi davvero. Portano in scena la rivalità tra Montecchi e Capuleti in maniera tragicomica, perché in fondo il destino tragico di Shakespeare è un po' anche loro. Vuoi sapere cosa penso del destino? Qualche volta il destino è come una tempesta di sabbia che ti viene addosso. Cambi direzione per evitarlo, però la tempesta cambia direzione anche lei, per seguirti me. Ma a fine serata, come nelle favole e non nelle tragedie, c'è spazio per sorridere.